Ben trovate bambine e bambini. Oggi vi insegnerò a preparare una merenda sana e golosa. I ghiacciolini alla frutta con yogurt. Ci serviamo poche cose. Un frullatore, cucchiai, forchette e coltello, due bicchierini, vanno bene anche quelli dello yogurt, vuoti, e due forchettine o coltellini di plastica. Gli ingredienti sono della frutta scelta, quella che avete in casa, dello yogurt e dello zucchero. Benissimo. Iniziamo col tagliare la frutta. Lo possono fare anche i bambini, perché usando un coltellino di plastica non ci sarà problema. Vedete? La frutta è molto morbida e si taglia facilmente. Ora la mettiamo in questo contenitore. Ora sbucciamo la banana. tagliamo bene. E la tagliamo a fettine. Vedete come è morbida? Si può anche con il coltellino di plastica. Così non vi fate male. Ok. E ora nel contenitore. Ora mettiamo lo yogurt. Così direi che è sufficiente. E lo zucchero. Ops, manca il cucchierino. E con un po' di zucchero, non molto, la frutta è già dolce. E ora, attenzione, si frulla. Ok. Vedete il nostro composto? Ora lo mettiamo nei bicchierini. Ecco. ecco qua, mettiamo le forchettine che serviranno da bastoncino per i nostri ghiaccioli e adesso il freezer ed ecco qua il risultato, il nostro ghiacciolino congelato io l'avevo già fatto ieri sera, è rimasto un bel po' di ore nel freezer ascoltate però, aspettate qualche minuto prima di sformarlo e poi ecco qua la vostra merenda buon appetito! alla prossima, ciao!